Ciao Bibbioafili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di tante belle cose, perché se avete visto l'haul del Comic-Con sapete che la casa editrice Manga Senpai mi ha donato tante belle cose di cui parlarvi. In particolare tre manga e la prima light novel italiana. Tutto questo se Cinder ce lo permette. Iniziamo dai manga, in particolare dal terzo volume di un manga che io avevo già iniziato e di cui vi avevo già parlato, perché in occasione del Lucca Comics avevo ricevuto i primi due volumi di Pendulum di Claudia Giambusso, al Napoli Comic-Con ho avuto il terzo e il quarto volume uscirà di nuovo al Lucca Comics. Troppo tempo, troppo troppo tempo. Questo è il manga che mi è piaciuto di più. È molto semplice, era in realtà un fantasy che unisce anche il romance, non troppo complicato, abbastanza appunto semplice, ma che nella sua semplicità cattura. Erano mesi che diciamo un manga, alla fine appunto molto semplice, non mi catturava così tanto. Io ho bisogno di sapere, ho bisogno di andare avanti. Mi ricorda anche un po' Akotar per farvi capire. E comunque, durante il Napoli Comic-Con, appunto durante i giorni del Comic-Con, l'ho fatto leggere anche a Chantal, a Camilla, a Susi, ed è piaciuto a tutte. Quindi, alla fine è una storia molto semplice, ma che intriga e cattura. Ho letto il terzo volume, credo che sia il più bello dei tre. Parlando con l'autrice abbiamo anche scoperto che saranno otto volumi, più una storia spin-off che sarà dedicata a un determinato personaggio. Questo terzo volume, appunto, è uscito al Napoli Comic-Con. Non vi posso dire nulla al riguardo, per non farvi spoiler. L'autrice è stata anche tanto carina da darmi una cartolina e da farmi la dedica con il mio personaggio preferito, che è Louis Zyrion. E, in realtà, ci troviamo, appunto, in un mondo fantasy, in un regno molto grande. In particolare, in una parte di questo regno, abbiamo due famiglie contrapposte, i Moonlight e i Bloody Rose, e al centro di queste famiglie c'è Lucienne, questa ragazza dei capelli rosa, che scoprirà di essere legata, appunto, da una parte sia ai Bloody Rose, sia ai Moonlight, dall'altra parte, perché lei è sempre stata cresciuta da una di queste due famiglie, anche innamorata, un ragazzo dei Moonlight, ma scoprirà di essere, appunto, in realtà, molto più legata a quelli che sono i Bloody Rose, in particolare i Dragones, c'è tutta una storia, in realtà, fantasy dietro, ripeto, non troppo complicata, anche perché i manga sono di 100-120 pagine ciascuno, quindi, in realtà, c'è poco, man mano si va avanti e si scopre di più, in questo terzo volume si scopre davvero tantissimo di più, e Lucienne, appunto, è la base, il centro di questa storia fantasy romance che andremo pian piano a scoprire. Ci sono, poi, tanti altri personaggi secondari, molti che avranno ruoli più importanti anche nei prossimi volumi, come ci ha già anticipato l'autrice, e io non vedo l'ora di andare avanti. Pendulum, appunto, per ora ha tre volumi, lo trovate al prezzo di 6,90€ ciascuno, è un manga, ripeto, non troppo difficile, con trame complicate e tutto il resto, ma, se volete una storia così, di intrattenimento, in cui ci sono, appunto, Maina Gioia, romance, fantasy, va per voi, ecco, è molto carino, a me è piaciuto tanto. Andiamo avanti con i manga, e vi parlo di Dirty Waters, di Lumi Niemi, primo volume di 4, è già uscito il secondo volume, il terzo è in pre-order, questo lo trovate al prezzo di 7,90€, ed è un manga che mi ha intrigato tantissimo. Gli ho dato, se non sbaglio, tre stelline e mezzo, su Goodreads, perché, comunque, si tratta del primo volume, ci sono ancora tantissime cose che devono essere scoperte, tante domande ancora aperte, cose che, magari, non mi sono chiarissime, ma, appunto, essendo il primo volume, penso sia normale, Dirty Waters mi ha ricordato un po' alcune storie horror, per farvi capire, perché ci troviamo in questa cittadina degli Stati Uniti, appunto, Dirty Waters, in cui questa famiglia si va a trasferire in una casa abbandonata, trovata a un prezzo stracciato, una casa gigantesca, ma già il nostro protagonista si rende conto che qualcosa non va, comincia a fare degli incubi, ci sono dei segni strani sulle pareti, sulle porte, e, andando a indagare nella città, trovando un nuovo lavoro, cercando di fare un po' amicizia, anche se, anche gli stessi cittadini di questa piccola cittadina non sono proprio normali, o comunque, sembrano avere dei problemi legati un po' a questa città, lui, appunto, cercherà di scoprire ancora di più su quella che è questa casa, su quello che è successo, e in particolare si parla di un signor sorriso che è legato a una figura, a uno spettro, in particolare a un ragazzo, molto giovane, che, diciamo, si ricopre il volto in questo modo, come se volesse sembrare uno scheletro, e si aggira nei boschi, sia per spaventare, sia in realtà scopriremo che, in qualche modo, la sua storia è legata a quella della casa, a quello che gli è successo, e a quello che sembra sta succedendo anche al nostro protagonista, ci sono anche qui tanti altri personaggi secondari, ma penso che la storia poi si baserà appunto sul protagonista e su questo ragazzo che si, diciamo, si tatua, no, perché anche lui ci scherza sopra sul fatto che non è un tatuaggio, ma disegna il suo volto in modo da farlo sembrare uno scheletro. È molto particolare come storia, un po' appunto mi ha ricordato l'inizio dei film horror, però mi ha intrigato, voglio sapere di più, e c'è una sfida strocca che riguarda il signor sorriso, che è molto carina, e che riguarda un po' appunto gli abitanti di Dirty Waters, che sembrano un po' appunto strani, mi ha ricordato appunto tantissimo il tipico film horror, ma sono curiosa di andare avanti, i disegni mi hanno ricordato molti manga che in realtà ho già visto, questo qui è il ragazzino, è un manga appunto iniziale, cioè la prima parte di una storia che secondo me diventerà un po' più complicata negli altri tre volumi, sono molto curiosa anche in questo caso di andare avanti, anche qui l'autrice è stata tanto carina da farmi un disegno al comic-con, con il protagonista, e niente, a me è piaciuto, i disegni mi piacciono molto e sono intrigata dal fatto che comunque io non credo di aver mai letto qualcosa di horror, o comunque che mi ricordi film horror, in formato manga, sono curiosa, i disegni mi piacciono, la storia mi intriga, quindi devo dire che come Tendulum, anche questo manga mi è piaciuto tanto. Terzo e ultimo manga di cui vi parlo è Tidal Lock di Ka e Sayuki Nanaji, io spero che i loro nomi si pronunciano così, comunque sono tutti manga di autori italiani. Tidal Lock sarà diviso in due volumi da quel che ho potuto capire, perché in realtà mi sono scordata di chiederlo all'autrice, ma qui c'è scritto uno di due, quindi penso saranno due volumi, e questa cosa un po' mi piace, perché io non amo le storie troppo lunghe, un po' mi mette ansia, nel senso che non so come in due volumi il tutto si potrà risolvere e capire, perché la storia qui è molto complicata. Ci troviamo in un mondo distopico nel 5050, una roba del genere, e un enorme cataclisma pericolosissimo, ha fatto in modo che la Terra stoppasse la sua rotazione, quindi ci troviamo in una Terra in cui metà c'è un deserto e metà c'è un ghiacciaio, e diciamo si è persa tutta la tecnologia, è come se si fosse tornati indietro nel tempo, vive in maniera naturale, in base alla natura, a quello che ci può offrire, non ci sono appunto le tecnologie, anche gli stessi protagonisti dicono, ah mi ricordo, mi hanno parlato di leggende in cui c'erano case altissime delle tecnologie particolari, e si vedono immagini che ne so, di motorio, di cibo preparato, dei palazzi, grattacieli che loro ora non hanno più, sembra appunto essere sì fermati o comunque ritornati al Medioevo per farvi capire, sebbene magari invece i loro vestiti, il loro modo di comportarsi sia molto moderno e contemporaneo, è un mondo distopico appunto, che mi ha ricordato alcuni distopici che ho letto e parlo proprio di libri, qui la storia appunto è molto particolare perché troveremo un gruppo di ragazzi fra cui il protagonista Isao, tra l'altro in questo caso i disegni mi hanno ricordato tantissimo quelli di Naruto, non so se avete presente, io non è che li abbia letti più di tanto i manga di Naruto, ma me li ha ricordati tanto e questi appunto ragazzi, Isao, il figlio poi di un altro importante capo di questo villaggio, una ragazza, il fratello di Isao andranno a iniziare questo viaggio per cercare di scoprire come risolvere il grande problema che sta affliggendo il pianeta, una forza oscura che praticamente minaccia di porre fine alla vita del pianeta stesso, è un manga molto particolare perché poi andando avanti si scopriranno dei mostri, dei poteri, delle capacità particolari che hanno questi ragazzi ed è un mondo distopico, complicato, cioè rispetto ad esempio agli altri manga che ho letto di manga senpai, Woi Pendon, Woi Dirty Waters, questo presenta una trama molto più complicata perciò ho un po' timore che magari in due volumi non si possa spiegare tutto, però vedremo, mi è piaciuto tanto anche questo qui, non c'era su Goodreads, ma penso li darei tre stelline e mezzo, perché comunque mi intriga da una parte e dall'altra vi ho detto mi mette un po' ansia il fatto che in due volumi si debba spiegare un mondo così complicato, mi ha ricordato molto appunto Naruto, comunque i tipici personaggi degli anime e dei manga per giovani ragazzi, da quel che ricordo io di Naruto perché non sono assolutamente esperta del genere di quel manga, però me l'ha ricordato anche per i loro comportamenti, anche per il fatto che ci siano delle amicizie delle relazioni particolari all'interno del manga fra i vari personaggi che sono un po' e c'è anche un bel po' di diciamo elementi più forti come ad esempio la morte è molto particolare appunto questo rispetto agli altri è un manga più complicato, spero che i due volumi mi piaccia e che comunque mi spieghi un po' il tutto, tutto quello che c'è stato presentato in questo primo volume, ti dà l'occhio lo trovate a 6,90€ sempre per manga senpai fine parliamo di The Legend of the Light Nights I Cavalieri della Luce di Gabriella Morgillo che è la prima da quel che ho capito light novel italiana a prezzo di 18€ unico libro libro che però appunto non è tale perché si parla di light novel in quanto ci sono anche i fumetti all'interno quindi non solo è appunto scritto come qualsiasi altro libro ma di tanto in tanto troviamo delle pagine appunto a fumetto a graphic novel a manga perché i disegni ricordano molto i manga in realtà i disegni non solo di Gabriella Morgillo ma di altri autori mentre io ho potuto incontrare appunto l'autrice al Comicon di Napoli è stata tanto carina da donarmi questo volume e da farmi una dedica molto molto bella insieme a un segnalibro e io ero rimasta molto affascinata dal fatto innanzitutto dalla copertina perché la copertina mi ha intrigato inizialmente pensavo che fosse un manga in realtà quando ho visto che si tratta di una light novel mi ha incuriosito ancora di più e l'autrice è stata tanto gentile da donarmi questa copia devo però dire la verità questa light novel mi ha deluso e mi dispiace davvero tantissimo perché l'idea di base e la storia originale è appunto intrigante fa venire voglia comunque di andare avanti è molto particolare si vede che c'è stato un grande lavoro dietro comunque come storia è molto particolare ma mi ha deluso per altri aspetti comunque di cosa parla questa light novel ci troviamo nel pianeta terra dove però al di là delle stelle in un'altra dimensione c'è un mondo che è praticamente lo spettro della nostra terra spettro e specchio il mirror planet appunto il mondo specchio dove tanti tanti anni prima c'è stata una particolare battaglia fra la luce e l'oscurità fra il bene e il male poiché in questo mirror planet è rimasto al momento solo quello che rimaneva dell'oscurità del signore oscuro amornor che vuole far sì che entrambi i pianeti in realtà finiscano nel nulla avere un po' il controllo di tutto quello che accade nel mirror planet essendo lo specchio di quello che è la terra si sta riflettendo sulla terra quindi anche sulla terra cataclismi assurdi tristezza oscurità stanno arrivando la luce la speranza è che in realtà sulla terra siano arrivati coloro che rappresentavano il bene nel mirror planet nella guerra del mirror planet c'erano stati cristalli di luce cristalli di oscurità che si erano scontrati questi cristalli di luce per un determinato motivo che non vi sto a spoilerare sono arrivati sulla terra e si sono praticamente incarnati in sette ragazzi che pian piano cominceranno a incontrarsi all'inizio del libro e che scopriranno di fare sempre tutti lo stesso sogno e tramite delle ricerche che addirittura li porterà nel Vaticano andranno a finire addirittura nell'area 51 per trovare un portale che li porti appunto a mirror planet ed è lì una volta che arriveranno lì che scopriranno di essere appunto i cavalieri della luce coloro che rappresentano le virtù che dovranno andare a scontrarsi con quelle altre sette persone di oscurità che rappresentano i vizi e ci sarà di nuovo questa lotta questa battaglia fra bene e male che salverà non solo il mirror planet ma di conseguenza appunto essendo uno specchio anche il pianeta terra come storia è molto particolare è molto originale e si vede che c'è stato appunto tanto lavoro anche per quanto riguarda appunto i nomi stessi le armi la magia tutta la storia perché comunque poi è legato molto al mirror planet e non vi voglio dire troppo per evitare di farvi spoiler questo per l'autrice è il suo terzo manoscritto e secondo me come inizio perché comunque al terzo manoscritto siamo ancora agli inizi non è male ma ha bisogno di migliorare nel senso che ho trovato un po' di errori diciamo morfosintattici nel senso io sono una persona molto fissata me ne rendo conto su queste cose però ho trovato punteggiatura un po' scarsa soprattutto non tanto la struttura delle frasi l'italiano utilizzato perché quello per carità ci sta ci sono al massimo un po' di refusi ma la punteggiatura spesso o è sbagliata o manca così come io purtroppo non amo quando la frase è scritta in grassetto per indicare che un determinato personaggio sta urlando quando si potrebbe scrivere urlò o comunque alzo la voce e tutto il resto a volte neanche ce n'è bisogno se uno scrittore è abbastanza bravo di scrivere una di queste cose sindere è molto interessata amore mio comunque a parte questi errori diciamo appunto che riguardano più che altro la punteggiatura ho trovato spesso delle situazioni un po' paradossali dei dialoghi soprattutto che nella vita di tutti i giorni secondo me sono un po' paradossali un po' al di là di quello che potrebbe in realtà accadere io capisco che siamo comunque in un fantasy perché si tratta di questo ma siamo all'inizio nel pianeta Terra nel mondo di tutti i giorni e a volte i dialoghi e le situazioni che si vengono a creare fra i protagonisti che man mano cominciano a incontrarsi a diventare amici e poi capiranno quello che gli sta accadendo sono paradossali anche nel momento in cui magari ci spostiamo nel mirror private ci sono delle situazioni dei dialoghi che mi hanno un po' disturbato nel senso che secondo me erano davvero irreali sebbene si parli di un mondo fantasy non dobbiamo comunque dimenticarci di tenere i piedi per terra e di avere dei dialoghi che abbiano senso per me questi sono i punti deboli di questa light novel ripeto come idea originale è molto bella è bello che ci siano i disegni dentro è bello che l'autrice abbia comunque scritto una storia molto particolare ma deve decisamente migliorare secondo me secondo il mio umilissimo e personalissimo punto di vista quindi purtroppo questa light novel mi ha un po' deluso quindi i manga mi sono piaciuti davvero tantissimo Pendulum mi piace proprio perché mi intriga ma gli altri due anche mi sono piaciuti perché ricordano appunto il distopico da una parte e l'horror dall'altra quindi comunque sono dei manga che mi hanno catturato purtroppo l'unica cosa che mi ha un po' deluso è la night novel perché per i motivi che vi ho appena detto non ha diciamo rispettato le mie aspettative vi lascio comunque tutti i link per acquistare sia i manga sia la light novel qui sotto nell'infobox su amazon e io ovviamente ringrazio gli autori e manga senpai per avermi donati sono veramente tanto tanto grata di averli potuti leggere non vedo l'ora di andare avanti soprattutto appunto con i manga perché sono molto curiosa per tutti quanti fatemi sapere se magari voi li avete letti o volete leggerli volete altre informazioni chiedete pure qui sotto e ovviamente nell'infobox ho oltre i link per acquistarli anche i link dei miei social vi ringrazio tantissimo se mi seguite anche lì anche se commenterete metterete mi piace e se siete iscritti al canale grazie mille noi ci vediamo al prossimo video ciao